Buongiorno! Oggi venerdì 25 aprile, direzione Jesolo Beach. Che giorno è il 25? 25 aprile, festa nazionale. Eh sì. Perché? Perché ci siamo liberati. Della guerra? Sì. Sentiamo. Eh, tanti anni fa ormai. Sì, più di 20. In colonna per incidente. Io mi voglio cantare. È caldo Giudini. Spegni! Sei triste! Buo ciao! Buo ciao! Dove siamo? Tieni. Ma com'è che è il mouse? Ti ho scoperto. Sei sei la mia, sei la mia, sei la mia. Sei sei la mia, sei la mia, sei la mia. Ale, bà 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 bà, cosa mangi? Cosa mangi te? Mangi? Cosa mangi? Calamari? Eccoci, finalmente. Ciao, figato. Ciao. Dove siamo? Adesso lo. Cosa bebi? Sì, sì, adesso. Sì, sì, adesso. Amore. No, questo quando vieni grande, grande. No, questo quando vieni grande. Ma amore, dove sei? Dove sei? In spiaggia. Sei in spiaggia? Mettiamo i piedini nell'acqua. Siamo in acqua. Vediamo i piedini nell'acqua. Vediamo i piedini. Cos'è? Cos'è? Vediamo i piedi. Vediamo i piedi. Vieni qua. È bello il mare. È bello il mare. Vediamo un po' di soddisfazione. Grazie. Basta adesso, dai. Andiamo? Andiamo, Ali. Fai vedere i piedini con le sabbia. I piedini con le sabbia. Fuori. Brava. Lascialo lì. Andiamo? Cosa prendiamo? La palla. Ma che buona. Ma che buona. Le ore più belle da stare in spiaggia sono queste. Quindi meno 20 alle 7. Spettacolo. Che hotel è? Casablanca. Spettacolo. Sì. Un po' di piedi lì. Per andare nella sabbia. Bene. Dopo miliardi di chilometri siamo arrivati al faro.